Ciao bambini, oggi ripassiamo insieme le parti della montagna, le alpi, gli appennini, i vulcani e le colline. Le montagne sono dei rilievi che superano i 600 metri di altezza. Le parti della montagna sono la cima o vetta, che rappresenta il punto più alto di una montagna, la valle, cioè la parte piana che si trova tra i due versanti, la catena, cioè il nome che viene dato alle montagne quando sono in gruppo, il versante o il pendio, che non è altro che il fianco della montagna, il passo, che rappresenta il punto più basso tra due montagne, il ghiacciaio, composto da neve indurita, se il ghiacciaio non si scioglie si dice che è perenne. Le alpi Le alpi si trovano al nord dell'Italia, hanno una forma ad arco e formano un confine naturale dell'Italia con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. I geografi le suddividono in alpi occidentali, che comprendono le alpi liguri, marittime, cozzie e graie, Alpi centrali, che comprendono le alpi pennine, le pontine e retiche, e alpi orientali, che comprendono le alpi atesine, carniche e giulie. A sud delle alpi centrali e orientali si trovano le prealpi, rilievi più bassi delle alpi con cime arrotondate. Le alpi sono le montagne più alte d'Europa. Fanno parte delle alpi le Dolomiti, che si trovano appunto nella parte delle alpi orientali e si estendono su tre regioni, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le Dolomiti sono costituite da una particolare roccia chiamata appunto Dolomia. Nel 2009 le Dolomiti sono state dichiarate per la loro bellezza patrimonio dell'umanità. Gli appennini sono una catena montuosa che attraversa l'Italia da nord a sud. I geografi dividono la catena in appennino settentrionale, appennino centrale e appennino meridionale. Sono montagne poco elevate, le scime non sono appuntite come quelle delle alpi perché sono composte da roccia poco dura, friabile, che lentamente si consuma con la pioggia, con il vento e con altri agenti atmosferici. Fa parte degli appennini il Gran Sasso, che è la scima appunto più alta degli appennini con i suoi 2912 metri di altezza. Si trova nell'appennino centrale, dove si trova anche l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone. Le montagne della Sardegna invece non fanno parte né delle alpi né degli appennini e sono molto più antiche e hanno quindi vette non molto elevate. Infatti abbiamo sempre ricordato che più è appuntita e alta la cima di una montagna, più questa è giovane. Più è arrotondata e bassa la vetta di una montagna, più questa è anziana. La cima più alta delle montagne della Sardegna è quella del massiccio del Gennargentu, che misura 1835 metri. I vulcani invece sono delle montagne speciali e negli appennini centrali e meridionali ne troviamo alcuni. Hanno forma di cono, sono formati appunto dalla sovrapposizione degli strati di lava fuoriusciti dal cratere durante le eruzioni, e in Italia si possono suddividere in vulcani attivi, cioè che hanno una regolare attività eruttiva, come per esempio Etna e Stromboli, vulcani quiescenti, cioè che hanno cessato momentaneamente l'attività eruttiva, come ad esempio il Vesuvio, i Campi Flegrei e Vulcano, e vulcani estinti, cioè spenti, come il Monte Amiata, i Monti Cimini e Monte Volture. Qui possiamo vedere le parti del vulcano. Abbiamo una zona sotterranea dove si raccoglie il magma, che poi risale in superficie, che viene chiamata Camera Magmatica. Un camino magmatico principale, che nella figura è identificato con il numero 2, eccolo qui, da dove risale la maggior parte della lava, ma ci possono essere anche dei cammini secondari. Il cono vulcanico, identificato appunto con il numero 3, che è creato dagli strati di lava fuoriusciti, il cratere, che è l'apertura da cui esce il magma, ci possono essere crateri centrali e crateri secondari, e poi il fumo che vedete sopra il vulcano, che viene chiamato Nube Eruttiva, che è composto da lava, cenere, gas e lapilli. Le colline sono rilievi che non superano i 600 metri di altezza. Generalmente rimangono tra i 200 e i 600 metri. Se osserviamo la cartina dell'Italia, si può notare, guardando la leggenda, quindi intuendo che il verde rappresenta tutte le colline, che possiamo notare che l'Italia è prevalentemente una zona collinare, a maggioranza collinare. Da nord a sud, infatti, l'Italia è ricca di colline. In colline il clima è generalmente secco e ventilato in estate, gli inverni sono miti e in primavera e in autunno piove spesso. Questo clima favorisce la coltivazione di uliveti, alberi da frutto e vigneti. Le colline hanno origini diverse e si possono suddividere in colline vulcaniche, cioè originate da antichi vulcani spenti, come ad esempio i Colli Euganei, e colline moreniche, originate dall'accumulo dei detriti trasportati a valle dai ghiacciai, come ad esempio le colline dell'Abrianza in Lombardia. Ma ci sono anche colline strutturali che nascono da antiche montagne sottoposte a erosione per lunghi periodi di tempo, come ad esempio le colline del Chianti in Toscana, ma anche colline tettoniche o di sollevamento che derivano dal sollevamento di antichi fondali marini dovuti a movimenti della crosta terrestre, come ad esempio le colline delle Langhe in Piemonte o le Murge in Puglia. Il nostro breve ripasso è terminato, spero che vi sia stato utile e vi aspetto alla prossima lezione. Ciao!